Io credo che questa sia la prima vera prestazione dove noi non siamo stati all'altezza in entrambe le fasi, quindi né nell'aver vinto i duelli individuali né nell'aver lavorato bene di reparto, perché non è solo una questione dei duelli individuali, quando si indirizza la pressione e si lavora ad esempio anche di catena, di pressione di pressione di catena, non arrivavamo con i tempi giusti, non ci muovavamo insieme. Abbiamo cambiato anche con degli adattamenti ma non abbiamo sortito degli effetti migliori, io credo che questa sia la prestazione dove una squadra che fa la giusta autocritica mantiene la lucidità e l'equilibrio di analizzare, che questa non è una partita che vogliamo fare ovviamente, ma anche nei momenti in cui potevamo riaprirla perché abbiamo avuto 3-4 situazioni davvero importanti, non abbiamo avuto la necessaria determinazione di poterlo fare, quindi metterci nella condizione di rigiocarci la partita. Al di là di questo qua c'è tutto quello che ci serve, perché comunque noi ci siamo costruiti le nostre fortuna attraverso non solo delle idee di gioco ma degli atteggiamenti mostrati in campo e oggi non siamo stati all'altezza di questo, bisogna riconoscerlo serenamente, quando facciamo bene e ci fanno i complimenti ci fa piacere, quando non facciamo bene come oggi è giusto riconoscerlo e prendersi le critiche. Da questo punto di vista è una partita però diversa rispetto a quella con Lecce, perché con Lecce comunque la partita è stata giocata, poi abbiamo sbagliato delle cose, oggi noi non abbiamo giocato una partita, non abbiamo dimostrato la voglia di andare incontro alle difficoltà che stavamo attraversando e quindi è giusto che da domani ci rimettiamo sotto ad allenarci perché non ci sono altri modi per migliorare, se non quello di dedicarsi al lavoro che si fa. Lei ha parlato di mancanza e di determinazione, quindi anche forse di un pizzico di umiltà che è venuta meno in questo frangente, ecco chi deve chiedere alla squadra maggiore determinazione, maggiore umiltà, non è che c'è forse un po' troppa euforia anche per i tanti giocatori che hanno respirato un'area internazionale, forse non sono abituati a calarsi del tutto nel clima, di un campionato che deve essere principalmente però di sofferenza, di lotta e quindi quando le cose vanno bene ci si fa facilmente, insomma ci si esalta, magari nelle difficoltà si è meno portati a lottare. E poi forse il fatto che dalla proprietà si fissi sempre questo obiettivo parte sinistra, siamo dalla sorpresa del campionato, cioè crea forse da un falso messaggio? Ma no, ma io allora, ne abbiamo già parlato nei nostri contesti più di una volta, io non mi rimangio quello che dico, il nostro obiettivo è chiaro, è stato dato alla società, poi è ovvio che magari vedendo certe partite, che peraltro abbiamo fatto, perché questo è innegabile, uno possa pensare allora possiamo valere di più, ma no. Queste partite che abbiamo fatto, compresa quella di oggi, danno anche la dimensione della difficoltà che è questo campionato. Di certo se fai questo tipo di partite diventa difficile pensare ad altri obiettivi e quindi è anche importante sperimentare queste emozioni che danno profondamente fastidio, che ti deludono perché comunque hai 4.000 persone a vederti e vuoi renderle felici e non ci sei riuscito. E quindi è anche giusto quel senso di autocritica, il senso di autocritica ti porta inevitabilmente ad avere il giusto grado di umiltà senza perdere la convinzione, cioè tu devi essere luce e dire io non ho giocato, ho giocato male, ho fatto tutto ciò che non dovevo fare in una partita e giustamente ho perso. Quindi capisci che questo è lo spot principale per un allenatore, una squadra, un intero ambiente che sa che le fortune della Salarintana le ha costruite attraverso gli atteggiamenti e un'idea di gioco, che oggi non è messo e quindi lo riconosci, devi essere consapevole del fatto che anche nelle difficoltà tu devi essere sempre in grado di poter prendere quello che ti serve e invece non l'abbiamo dimostrato oggi. Quindi l'autocritica è, signori, da domani siccome si lavora, perché se non abbiamo fatto questo tipo di partita non abbiamo giocato come volevamo, giochiamo domani, ci alleniamo domani, cerchiamo di migliorare. Assolutamente, nella valutazione generale della scelta di una squadra io sono sempre il responsabile, ma sono convinto che la squadra che abbiamo a disposizione sia, per quello che ha dimostrato fin qui, gli interpreti adeguati, che oggi però insieme a me non siamo riusciti a fare la parità che volevamo. Però io non è che vado a distruggere qualcosa, io vado sempre a cercare di costruire riconoscendo ciò che bisogna migliorare.